Tornerà ad essere una piazza che gli aretini non hanno mai visto perché prima è stata sede di convento, poi di caserme, poi anche se aperta alla cittadinanza ma usata come parcheggio. Ovviamente riportandola ad essere piazza le auto devono essere trasferite in altro luogo ed ecco che nasce l'idea di un parcheggio multipiano messo nella parte più lontana, meno visibile e in parte anche mascherato da un nuovo edificio. Così la piazza Fanfani che verrà è stato infatti presentato il piano attuativo dell'area dell'ex caserma Cadorna che prevede una riqualificazione edilizia ed urbanistica significativa. Ci sono questi due primi edifici che sono la palazzina ex comando che diventerà il centro per l'impiego che è già stato fatto il progetto definitivo appaltato in questi giorni. Poi l'ex corpo di guardia che diventerà bar servizi anche questo con un affidamento per appalto e questi sono i primi due che partiranno. Poi il resto ovviamente dovrà essere pensato e soprattutto progettato in maniera più pontuale, esecutiva e per stralci funzionali verrà poi attuato. Il progetto prevede quattro nuovi volumi ed altrettanti nuovi spazi aperti. Prevede proprio una divisione di questo grande spazio che è tutto il cortile dell'ex caserma Cadorna che viene diviso in due isolati, vengono ricusciti due isolati. Uno completamente pedonale che prevede una parte a verde e una parte mineralizzata, cioè pavimentata, con un edificio che poi farà appunto da Quinta, che sarà un volume completamente nuovo e sarà un edificio polifunzionale. E dietro avremo tutta invece la parte carrabile che appunto ricuscirà via Garibaldi con via Petrarca con l'accesso sia per dei parcheggi a raso ma anche per appunto il multipiano. Un nuovo percorso pedonale è previsto anche in convenzione nel piano di recupero dell'ex Palazzo Enel. Loro per convenzione cederanno a noi sia un passaggio pedonale sulla parte sinistra che una parte sulla destra che viene ad ampliare questo passaggio che è già esistente.